Due anni e mezzo di commissariamento, non sono pochi, ma finalmente Cropani ha il nuovo sindaco, Raffaele Mercurio. Siamo venuti ad intervistarlo e a chiedergli come è andata la campagna elettorale. Una vittoria con sei voti di scarto è una cosa quasi storica, potremmo dire. Sì, assolutamente. È stata una campagna elettorale dal nostro punto di vista, dal punto di vista della lista che io capeggiavo, una campagna elettorale entusiasmante, l'abbiamo definita, dove non era assolutamente scontata la nostra vittoria, anzi partivamo sicuramente in svantaggio rispetto ai nostri avversari. E quindi penso che da parte nostra la campagna elettorale è stata una campagna che ci ha permesso di recuperare tanto e alla fine di vincere per soli sei voti, quindi è un risultato particolare, diciamo così, però è sempre una vittoria, quindi da parte nostra la massima soddisfazione. Lei è giovanissimo, tra l'altro è uno dei sindaci giovani della provincia. Che progetti ha per Cropani? Immagino ci sia tanto da rifare adesso, anche perché sono subentrate nuove leggi, nel frattempo in questi due anni e mezzo, nuove regolamentazioni delle sedi municipali, la quota 100, quanto c'è da fare e cosa vorrà fare? Ma guardi, sul programma noi abbiamo detto sin dall'inizio due cose essenziali. La prima è che Cropani, dopo due anni e mezzo di commissariamento, ha la necessità di ritornare alla normalità e quindi l'obiettivo è quello di ridare dignità e decoro a questo paese. Ci siamo già attivati, lo stiamo facendo in queste ore per sistemare alcune problematiche che riguardano la scuola, così come l'illuminazione pubblica, le strade, la pulizia e quant'altro. Dall'altra parte il nostro è un programma ambizioso, un programma che vuole ricollocare Cropani al centro del territorio, laddove merita di stare e quindi argomenti come legalità e trasparenza, pianificazione del territorio, welfare di comunità, cultura e turismo ed altri ancora programmi saranno al centro del nostro lavoro e cercheremo con i tempi necessari di riportare Cropani al centro di questo territorio che è un territorio importante. Grazie a tutti.